Buonasera, buonasera amiche ed amici, buonasera e bentornate ad un altro capitolo di Cuore La trasmissione di AMTN Television che parla di libri, oggi avremo un'altra trasmissione un pochino particolare Perché? Perché di solito ospito un autore, invece oggi gli autori sono due e sono qui alla mia sinistra Quindi alla vostra destra, li vediamo adesso, e sono Marcello Viali, buonasera, ciao Marcello e Gisella Paccoi Ciao, buonasera Allora, Marcello e Gisella sono cugini, giusto? Lo possiamo dire Cugini, cugini E hanno collaborato alla realizzazione di un libro che è anche una favola, giusto Marcello? In realtà è un libro che è una favola Hai detto benissimo Ecco, è un libro che è una favola La regia ci può mandare quando vuole la copertina di questo libro e lo vediamo E' un libro di sport, è una favola come vediamo, c'è scritto anche la favola dei Freak Brothers E però Marcello in realtà è la testimonianza di un mondo che non c'è più, possiamo dirlo, giusto? Il mondo Uno dei tanti aspetti romantici del calcio di un tempo, no? Il mondo degli ultras Certo Di cui tu hai fatto parte in maniera seria Possiamo dirlo Marcello, dai Diciamo che Marcello Viali è stato Sono orgoglioso di questa cosa Tuttora io sto lì Il mio posto è vicino a loro Non ho più l'età per scalmanarmi Però il mio posto è lì Vicino ai gruppi del tipo organizzato Anche se è un po' cambiato rispetto agli anni Sì, molto Sta cambiando tutto E tu hai impostato il libro come un nonno Che racconta le nipotine Sì Un nonno che racconta come si è fondato questo gruppo E come è evoluto il tifo a Terni praticamente Sai perché Terni quando noi eravamo ragazzi Il tifo, la passione per la Ternana c'è sempre stata Era un tifo differente, era un tifo non organizzato Per cui un tifo estemporaneo Fatto magari con i vecchi campanelli Con le trombe delle macchine Con la batteria delle auto Sì, parliamo degli anni Marcello? Questo intorno agli anni 75 Cioè nell'anno della prima serie A Della prima serie A Allora dopo ci ritorniamo a come Nasce questa tua passione per il tifo E ne parliamo Tra parentesi voglio citare una frase Ma lo faccio dopo Che tu hai detto una volta che ha colpito tutti Però Quello che ti chiedo prima da scrittore Adesso analizziamo Il Marcello in nuova veste di scrittore Come ti è avvenuta questa idea Marcello? Eh, questa idea mi è avvenuta perché Allora Fondamentalmente è un modo Questo libro è un modo per raccontare Alle mie nipoti che sono tifosissime della Ternana Quegli anni E nel frattempo ricordare quegli amici Che purtroppo ci hanno abbandonato Non ci sono più Io volevo che questa La memoria di questa Di questi periodi Di questi anni venisse Ricordata Ci fosse qualcosa che ricordasse Una testimonianza Una testimonianza Esatto Di quegli anni Esatto E da lì è nata l'idea di questo libro È nata l'idea E poi Hai coinvolto Gisella E poi ho coinvolto Gisella Gisella Che fa tutt'altro nella vita Addirittura vive Proprio in un'altra nazione Perché vivi Gisella In Danimarca Vive in Danimarca addirittura Ecco Da quanti anni ti sei trasferitata? Più di dieci Più di dieci anni Non conto più Però sono più di dieci Ecco più di dieci anni Che vive in Danimarca E un giorno riceve la chiamata di Macello Che dice Mi aiuti? Sì E tu hai pensato Vabbè è impazzito No Oddio Lo conosco da sempre Per cui lo sapevo Che doveva impazzire Che queste giocate ce le ha Sì E tu Diciamo quindi hai Aiutato Macello Giusto nel Qual è stato il tuo compito principale Nel libro Ma diciamo Ho cercato soprattutto Di dargli Una traccia Nel senso che Marcello Quando parla Degli ultra Della sua esperienza È un fiume in piena Si sente la passione Si sente l'emozione Nel ricordo E io ho cercato Un po' di dargli Appunto una traccia Per mettere tutto su carta Benissimo Bene Allora Sapete Dopo questa breve introduzione Partiamo con l'altra parte interessante Della nostra trasmissione E la peculiarità Che noi abbiamo È quella che facciamo sempre leggere Delle parti del libro Che andiamo poi a presentare Da Di solito Utilizziamo Marcello Degli attori Dei doppiatori Però stavolta In comune accordo con te Abbiamo utilizzato La nostra amica Daniela Che è una super tifosa Della Ternana E Quindi Utilizziamo Danielina Che ci va a leggere Intanto la prima parte Di questo libro Il primo contributo Poi torniamo in studio E ne parliamo Ok? Ok Aperti i pacchetti E scoperto che si trattava Di due tute rosso-verdi Michela era tornata Al suo disegno E Arianna Aveva deciso Di indossarla Era furba Arianna Riusciva sempre a capire Cosa poteva fare Per far felici Le persone che aveva intorno Poi se le andava Lo faceva anche Allora Hai visto che ti ha portato nonno? Ti piace? Aveva provato Ad indagare Marcello Arianna aveva annuito È una bella tuta Gli stessi colori Della tua sciarpa Ecco perché mi piace Ma tu lo sai Che colori sono? Aveva incalzato Marcello Arianna aveva fatto spallucce E se n'era tornata Nell'altra stanza Per continuare a giocare Marta si era accorta Che il padre Era rimasto un po' Deluso dalla risposta Anche se stava cercando Di mascherarlo Dai non prendertela Lo sai che sono bambine Non capiscono Non possono capire Quasi quasi Non capisco io stessa E dire che ti ho visto Domenica dopo domenica Perché non ci racconti qualcosa Che ci aiuti a capire meglio? Marcello era rimasto silenzioso Per un po' In effetti Potrei parlarvi Di un'esperienza Che per me È stata determinante Qualcosa che non avrei potuto vivere Se non fossi stato Quello che ero E che mi ha portato Ad essere quello che sono Non è facile Mettere insieme i pensieri E non è facile Raccontare certe cose Specialmente se voglio Che le comprendano Michele e Arianna Facciamo così Venite da me domani sera E io vi racconterò La favola dei Freak Brothers Allora Marcello Parto subito così Acciaio Terni Ternana Un binomio Secondo me La Ternana È nata Vicino alla fabbrica Dell'acciaio Terni è nata Con l'acciaio Per cui capite Che è un binomio Indissolubile Indissolubile Allora Voi dovete sapere Che la Ternana Era la squadra Delle acciaierie Di Terni E infatti Il campo da gioco Del glorioso Viale Brin È nato Proprio accanto Alla fabbrica Delle acciaierie E I giocatori Della Ternana Erano operai Delle acciaierie I diffosti Della Ternana Erano operai Delle acciaierie Cioè Per cui Sono proprio Nati in contemporanea Cioè Addirittura I giocatori Venivano a Terni Proprio perché Gli si prometteva Un lavoro All'acciaierie E si Ma tanti Poi ci sono anche Molti stabiliti In città Perché Allora La Ternana Era È nata Con Con queste Una squadra Operaia Capito Nata Nata Per passione Per Degli operai E ha mantenuto Questo legame Con la città La Ternana Non è solo Una squadra Di calcio È Un simbolo Di questa città È qualcosa Di più Che va oltre La passione Per il calcio E qui ti dicevo Proprio Perché poi dopo Ci siamo spostati Chiaramente Liberati Quando la Ternana È andata in Serie A E tu In una trasmissione Una sera Che ero io presente Anche se ero Solo come assistente Di studio Hai detto Una di quelle frasi Che poi hanno fatto Il giro dei social Gisella Il tuo cugino Ha detto Io su questi gradini Ci sono nato E su questi gradini Morirò È giusto? Eh sì Che sono Ecco io questo Ti chiedo Gisella Tu Diciamo in maniera Più distaccata Hai iniziato Ad elaborare Il materiale di Marcello Quindi a leggerlo A metterlo giù Diciamo un po' Come correttore di bozze Ma poi Anche molto più Forte l'azione E Si sente Cioè Lo percepisci Questo amore Biscerale Che ha Marcello Per la Ternana Assolutamente sì Infatti Anch'io stavo pensando A una frase Che mi ha detto Lui su Liberati Lo conosco meglio Dalle mie tasche Quindi Lui Devo dire che appunto La cosa che L'ho sempre conosciuto Sempre come tifoso Però Non avevo mai capito Veramente Quanto fosse forte La presenza Della Ternana E del tifo Nella sua vita E è bellissimo Sentirlo parlare Con questa emozione Intanto stanno andando Delle immagini Della nostra regia Che ha preso dal libro Che sono bellissime Chiaramente La definizione Signore è quella che è Sono foto degli anni Ottanta Settanta Novanta Quindi diciamo Scusami che ti ho interrotto Ma era importante No È giusto E quindi no Proprio perché stavamo Vedendo quello E quindi ecco Ecco io per esempio Ho lavorato nel calcio Anche in Danimarca Molto pochissimo Sono stato un paio di volte Però sono stato Abbastanza in Svezia Per esempio In Norvegia Ecco la sua è molto più Distaccato Molto più tranquillo Io vedevo Ricordo Andavo le partite Al termine delle gare Le squadre andavano A pranzo insieme Sì Cioè proprio No È un altro modo Di vivere le passioni Molto più contenuto Con passato Appunto non certo Io penso che I freak In Danimarca Sarebbero visti Come freak Sì proprio Il termine esatto Della parola Ecco E tu nel libro Marcello Dorniamo a te Racconti appunto La nascita dei freak Sì Allora Adesso Cioè andiamo a ascoltare Il secondo contributo Di Daniera Che ci racconta proprio Di come nasce l'idea Da questo viaggio in Olanda Ok Che poi dopo Ce ne parlerai un pochino Anche tu E poi torniamo in studio Che lo commentiamo insieme Ok Ok Una sera Eravamo a casa di Fabrizio Lucatto Suo fratello Era stato in Olanda E quando era tornato Aveva portato un fumetto Chiamato Freak Brothers Tre fratelli stravaganti Con i capelli lunghi Pantaloni jeans E le magliette colorate La gioia di vivere in modo libero E diverso dal passato Questo nome ci è piaciuto molto Innanzitutto perché aveva la parola Brothers Che in inglese significa fratelli Essere fratelli È molto più che essere amici Un'amicizia può essere importante Forte Ma ci possono essere delle discussioni E l'amicizia può anche finire Il fatto di essere fratelli No Un legame così stretto Non finisce mai Non può essere spezzato Neanche dalla discussione più brutta E noi in quel momento Ci sentivamo davvero fratelli Perché stavamo vivendo insieme Un momento fondamentale della nostra vita Sapevamo che ci saremmo sentiti così legati per sempre Perché condividevamo ideali, passioni e esperienze E poi c'era la parola freak Una parola strana Che in inglese significa strambo, spostato Nel senso di fuori dalle regole normali Questa parola era usata per descrivere Le persone anticonformiste e contestatrici Che si vestivano in modo eccentrico Per distinguersi E che non accettavano di vivere Secondo le regole che la società di quel momento Cercava di imporre In poche parole Eravamo noi Fratelli, liberi, diversi Avevamo i capelli lunghi Portavamo camicie e magliette Che non si erano mai viste prima Sperimentavamo gli effetti Di certe piante famose in Olanda Nonno, ma perché ti sei tagliato i capelli? Perché le cose cambiano stellina E c'è un momento giusto per portare i capelli lunghi E un momento sbagliato Ma non pensare che tagliare i capelli Significhi smettere di essere freak Quando lo sei, lo sei per sempre Anche se non fai più le cose che facevi prima Quindi Macello Tutto nasce da un fumetto Esatto Esatto Erano gli anni Ottanta Intorno agli anni Ottanta Noi già eravamo Eravamo molto giovani E già comunque Partecipavamo Agli Ultras Settolati del Nara Però La parola La parola Gli striscioni I simboli Che usavano le altre squadre Non è che ci piacevano tanto Erano un po' Noi li chiamavamo Funerei Cioè Questi teschi Le morde Le sbranchi A noi ci piaceva qualcosa di più Goliardico E che ci rappresentasse In maniera forte E allora un giorno Stavamo a casa Dell'indimenticato gatto In arte Fabrizi Che Fabio A casa di Fabio E vedemmo C'era un fratello Che aveva più anni Il fratello Che era stato in Olanda In una gita con i ragazzi E aveva riportato Questo Giornalino Giornalino I Freak Brothers Che erano tre ragazzi Sconvoltissimi Inglesi Che viaggiavano E vivevano La mandiamo con la regia La foto Vivevano in una maniera particolare E a noi ci è piaciuto tanto Ci è piaciuto tanto Perché ci rappresentava molto Il nostro modo Cacciarone Diciamo Diverso Perché Noi abbiamo anche Secondo me Cambiato anche un po' Il modo di Di vita Di quello che era Terni una volta Che era molto Precisino Che era molto Noi Già i jeans I capelli lunghi Il nostro modo Le macchine personalizzate Di simi personalizzati Cioè Avevamo trasformato Un pochettino La maniera di vivere E ci è piaciuto tanto Questa E questo era sempre Gli anni 75-80 80-80 Questi sono gli anni 80 Noi siamo passati Da ultra sternana Poi piano piano Freak Brothers Negli anni 80 Negli anni 80 Sì Il primo stricione Fu uscito a mano Dalla mamma Di un altro indimenticabile Personaggio Tolomei Detto Rambo Fu uscito a mano Lo stricione E esposto davanti Al vecchio bar Il nostro vecchio ritrovo Il bar Bellantini Quindi da lì Nasce La favola Di Freak Sì Da lì sono nati Così I Freak Brothers Che per E abbiamo avuto Tanti Tante persone In Italia Ma io direi Nel mondo A cui è piaciuto A questo modo innovativo E goliardico Di stare vicino A quello che poi Era per tanti Una squadra di calcio Ma per noi Era qualcosa di più Per noi Era un modo Proprio di vita Di essere Essere Ultras Non è solo Una parola Ma è anche Un modo di vita E noi È un modo di vita Che anche adesso Che sono passati Tanti anni Tutti Chi è stato fricca Sarà fricca a vita Te lo volevo dire Quello che dicono sempre Chi è Ultras E Ultras per sempre Sì E chi è fricca È fricca per sempre Questo è meraviglioso Anche se poi Le vicissitudini della vita No sappiamo Certo Cambia il camion Molti amici sono andati Purtroppo Purtroppo Quella è la parte negativa Per cui è nato Questo libro Vedi Gianluca Perché sì È una favola Cioè È la favola Di Frick & Brothers È un nonno Che racconta Alle nipoti Ma è anche un modo Per ricordare Tante persone Che purtroppo Non ci sono più Certo Assolutamente Che però Nel cuore Sono sempre vicino a noi Perché Comunque Vedi Ti racconto una cosa Per farti capire bene Quello che era La Ternana e quello che erano i Frick & Brothers Quando ero bambino Sai Si andavate nelle scuole Così Allora Se parlavi con gli altri Dicevano Perché Che squadra Allora C'era Chi diceva La Juve Chi diceva La Roma Non so L'Inter O via dicendo Noi a Terni Si diceva La Ternana Che magari Ancora in Italia Non tutti conoscevano Per cui Questa è una cosa Che ha colpito Molto Cioè A Terni Si tifa E si tifava Solo per La Ternana Gisella Dimmi La verità Scusa Hai un pochino di tosse Sì Missa un po' di commozione Va bene Oh sì Hai dovuto tagliare molte parti Dimmi la verità No No? Allora è stato buono Dai No no Assolutamente È stato Diciamo le imprese quelle complicate Non le ha raccontate Marcello Scusate Dicevo Era una favola per bambini Quindi naturalmente L'ho un po' edulcorata Però Diciamo che insomma C'è stata qualche Qualche espressioncina Un po' Beh vabbè Insomma Diciamocela tutta Marcello Ora In amicizia Ma Ne avete anche combinata Qualcuna di grossa Certo Certo C'è un po' di divertirsi C'è però Insomma Sì 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 Ma vedi Noi Cioè Vedi C'è un simbolo Nel nostro sessione Della loro African Brothers Che è il Tao Il Tao Secondo me ci rappresenta molto Perché è il simbolo Del bene e del male No? Per gli indiani Ecco È vero Probabilmente C'è stata qualcosa Che è andata oltre Troppo oltre Per gli schemi Però L'altra parte È stata fantastica Perché Noi eravamo Molto Siamo sempre stati vicino A Questa parola Frick Fratelli Frick Brothers Che significa Fratelli Era un modo Era un modo Sia anche Di aiutarci Di stare vicino Alle persone Che di noi Avevano bisogno Passavano qualcosa Per cui Noi eravamo Un grosso Io amo definire La curva S Di quei tempi Un grosso contenitore Di idee E Di solidarietà Verso le persone Che ne avevano bisogno Un Frick Che a quei tempi Non era mai solo Perché Qualsiasi cosa Succedeva C'era chi era pronto A darsi da fare Per aiutarlo Era un modo Diciamo anche Marcello Eccoci qua Guarda che bella questa Questa è meravigliosa Sì Questa con Bibbo Andavamo A Foggia Con la macchina Perché non avevamo Il mezzo di idee Prendemmo questa auto Che era della mamma Di Bibbo E Da uno sfascio Per cui Era praticamente Già andata In rottamazione E noi invece La tirammo fuori Perché ci serviva Assolutamente Sì E questo è Diciamo anche Marcello Che comunque Sì Hai parlato Hai detto Ma erano anche anni Particolari per tutti No Certo Cioè non è che era solo Una questione di fricco Una questione Cioè Lungi da mai giustificare Determinate cose Però Era un periodo Particolare per tutto il mondo Le lotte giovanili La rivoluzione Cioè Era il secondo 68 No diciamo Quello che poi Dopo ha portato in Italia Anche a cose pesanti Tipo gli anni di piombo E quant'altro Però insomma Erano momenti Erano gli anni di piombo Nel 77 80 Esatto Erano comunque Momenti in cui Le coscienze Erano scosse E quindi Ci poteva anche stare Che una cosa del genere Poi alla fine Sfociasse In qualche episodio Magari Un pochino più pesante Però Ci sta Ma vedi Il fatto Che noi siamo Una defuseria Molto Molto O perlomeno Eravamo una defuseria Molto Molto forte Come entità Per cui I piedi sulla testa Non ce l'ha mai messi Nessuno Voglio dire Cioè Questo Ci portava Magari a volte A degli episodi Sbagliati Vabbè Però Era quello Però Non era mai Premeditato Cioè Chi seguiva Il modo Di seguire La ternana Cioè Non è che E di non farsi Mettere i piedi Sulla destra Da nessuno No Dall'altro Non è che Uno andava Allo stadio Con Non so Un'arma Conduttente In tasca Per far male A qualcuno Noi ci andavamo A volto scoperto Noi ci andavamo Così Con coraggio Con coraggio A volto scoperto Cioè Se sbagliavamo Se si litigava Si litigava Per la ternana Non è che C'erano altre cose sotto Non andavamo a cercare Lo scontro Per dire Devo fare Ma non per forza Voglio dire Noi Non ci faccio Semplicemente Eravamo orgogliosi Nessuno avrebbe toccato I nostri decisioni Nessuno avrebbe toccato Le nostre bandiere Questa è una bellissima frase Eravamo orgogliosi Di essere freak E quello Quello difendevi Quindi Siamo quasi arrivati in chiusura Dobbiamo un paio di minuti Ma ne vale la pena Allora Uno Per ringraziare L'associazione Edera Perché tu hai detto Che ci tieni molto All'interno del libro Ci sarà un trafiletto Lo trovate subito Credo nella seconda di copertina Se non ho visto male C'è subito Appunto Una descrizione Di quello che fa Questa meravigliosa associazione Di chi aiuta È stata molto importante Per Marcello Per Gisella Per la realizzazione Di questo libro Quindi ecco Lì c'è scritto tutto Leggete con calma E come al solito Si tratta di volontariato Quindi se volete contribuire Lì c'è scritto come fare Senza alcun problema E questa è la prima cosa La seconda cosa In chiusura Mi sembrava doveroso Far leggere L'ultimo contributo a Daniela E con quello Ci salutiamo Quindi noi ci salutiamo qui Poi lasciamo Daniela Sulle Amicizie esterne A quello che è la Ternana Quindi Quelli che si chiamavano Un tempo i gemellaggi Gemellaggi Adesso insomma no Che noi citiamo I più famosi Che conosciamo Sono quelli con l'Atalanta Chiaramente Con la Sampdoria Con la Casertana Con il Santi Paoli Poi dimmi se dimentico No 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 Ci sono tanti Però diciamo che Vedi Anche quello per esempio Con l'Atalanta No Che va Oltre Perché noi stiamo parlando Di calcio Ma la gente Deve secondo me Capire che per esempio Questa amicizia Questo Va oltre La squadra di calcio Cioè nell'arco degli anni Questa Gemellaggio No Si è trasformato In Ci sono tanti Magari famiglie Nade Tra Terni e Bergamo Tanti figli Ne conosco qualcuno Qualcuno anch'io Che si è sposato Un bergamasco O qualcuno ha sposato Una bergamasca Per cui È una strada Che noi E i ragazzi Di Bergamo Abbiamo Continuiamo a seguire Insieme Durante il percorso Della vita E allora Io ti ringrazio Ringrazio Gisella Di essere stati qui con me Quindi A breve Il libro troverà Una pubblicazione Con una casa editrice Quindi poi lo faremo Sapere via social E quant'altro A brevissimo Ringrazio tutti quelli Che sono stati con noi E andiamo ad ascoltarci Daniela che in chiusura Ci parla dell'ultima cosa Importante Cioè quanto i Freak Brothers Poi siano stati importanti Anche all'esterno Di Terni Per stabilire quelle Relazioni E quei rapporti Che ancora durano Dopo 40 anni Sì Bene Grazie Marcello Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Buona serata a tutti Non devi essere triste Per i Freak Brothers Perché abbiamo avuto Una fortuna grandissima Una di quelle che capitano Una volta nella vita E non a tutti Abbiamo incontrato Non uno Ma addirittura Un gruppo Di fratelli di vita I sostenitori Dell'Atalanta E che cos'è l'Atalanta? È la squadra di Bergamo Bergamo? È una città lontana Nel nord Italia Più lontana Di quando andiamo In vacanza al mare? Eh sì Stellina di nonna È più lontana Non dimenticare Che quando nonna era ragazzo Era davvero difficile Spostarsi Perché le macchine Erano meno veloci Le strade erano meno belle E i viaggi Costavano tanto Pensa Li abbiamo conosciuti Alla fine degli anni 70 Davvero tanti anni fa Quando ancora si chiamavano Atalanta con Mandos E ancora Ci vogliamo bene E poi? E poi cosa Stellina di nonno? Eh mi piace Quando racconti Dei vostri amici lontani Chi altro c'è? Ce ne sono tanti Perché quando abbiamo inventato Il tifo freak Così colorato Allegro e bello Molti si sono accorti di noi E si sono avvicinati Perché le loro idee Erano simili alle nostre Ci sono gli ultras Della casertana Per esempio Ma anche quelli del San Paolo di Hamburgo Che hanno disegnato Un bellissimo murale Sotto la nostra curva est Hamburgo Un'altra città A nord di Terni? Molto a nord Sta in Germania Quasi 2000 km a nord Uh quanta gente Eh nonno te l'ha già detto I Freak Brothers Sono stati Una meravigliosa esperienza Di vita Non solo sportiva Perché abbiamo davvero Fatto vedere al mondo Che l'amore per la propria squadra Non è solo una passione Della domenica Che si tira fuori dal cassetto Quando c'è la partita Ma è un modo di pensare Che avvicina le persone Pur conservando Le individualità Per questo sono sicuro Che la favola Dei Freak Brothers Non è finita Ma è come la brace Che continua ad ardere Sotto la cenere E che prima o poi Ci sarà qualcuno Che la farà rivivere Che la farà rivivere